Ma cosa mi dici mai? Ciao, benvenuto da Nassu Kale! Sei scassata contro il mobile di Vietnino? No, mi sono scassata però. Allora, Topo Gigio. Bello Topo Gigio, c'era anche i miei tempi. Saluto mia mamma che mi piace l'imitazione di Topo Gigio. Chiede alla nonna di fare l'imitazione di Topo Gigio. Prima di aprire questo pacchetto... Io mi ricordo che aveva anche un bambolotto tipo grosso così di Topo Gigio. Eh sì, grosso così vuol dire molto grande. Allora, in questo caso... Adesivi, attacca e... Attacca che non sono una sorpresa. Nel senso che per me la sorpresa deve essere un giocattolo. E se non è un giocattolo è meno sorpresa. Quindi, intanto apriamo. E abbiamo recuperato... Da un mercatino delusato. Esatto, ne abbiamo trovato perché cercavamo delle cose di Barbie. Ne abbiamo trovato questi due esseri strani. E sono di Gigio, Topo Gigio. Di dubbio gusto. Erano all'interno di un sacco misto perché cercavamo delle altre cose. Molto vecchi sembrano. Molto vecchi sembrano, sì. Perché? Non sono rigate. Ah, non sono rigate. Allora, andiamo a vedere che cosa abbiamo trovato qua. Tanto teniamo come sfondo un sacchetto di patatine. Ma sono magneti. Uh, lei mi sta più simpatica. È più bella. Ascoltami un secondo. Aspetta. No, non sono magneti. Sembravano magneti. Vediamo se c'è qualcosa di metà. In pratica si staccano e abbiamo questi due attacca e stacca. Sticker attacca e stacca. Ma tu vedi che sono sticker. Fammi vedere se si staccano e riattaccano. Lo sto distruggendo praticamente. No, questo è di carta. A me sembrano magnetici, sinceramente, a vederli così. Io che siano attacca e stacca non lo percepisco. Abbiamo qualcosa di metallo per provare. Andiamo. No, questo è metallo. Va bene, non riusciamo a capire come si attacca e stacca. Si attacca? Mm? Allora sì, sono leggermente... E qui no, però. Ah, sì. Ok, attacca... Ma allora, per scrivetelo. Cioè, sono magnetici, scriveteci magnetici. Magneti. Diventa più divertente perché i magneti si attaccano sul frigo. E lui è topogiglio. No, non si chiama carina, però è un po' più carina. Queste due cose sono carine per un altro motivo. Perché potete attaccarci la foto di chi volete, di uno di BTS, una foto vostra, e attaccarlo sul frigorifero come una cornice. È caduto? Perfetto. Ho detto BTS, Sara si è emozionata ed è caduto. Non ho mica detto Jungkook. Bene, vedete, guarda. E doveva fare tutti i gesti suoi. O una foto di un unicorno, una foto di papà, una foto della nonna, l'attaccate e la regalate. O BTS. O BTS, abbiamo già detto. O Jimin. O Jimin. Qualunque, o Topo Jigio. O Topo Jigio. Topo Jigio. Topo Jigio. Oppure Yoyo. Anche, va bene, tutto quello che volete. Comunque. Oppure Memole. Oppure Memole. Eccola qua, Memole. Guarda, ce l'abbiamo. Viene così, Memole. Anche se sarebbe meglio con questa. Vi ricordo di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, schiacciate il tasto iscriviti. Schiacciate la campanella per essere ragionati tutti i video. Mettete un like. Esatto. E come sempre... Noi vi spettiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!